Start, 2, 1, initial mission and liftoff! L'ho un pochino giochicchiato e devo dire che è abbastanza particolare per quanto non lo vedremo nel dettaglio oggi vi voglio presentare un pochino l'idea dello sviluppatore che mi ha mandato il gioco solo dopo parecchi mesi perché ci teneva che portassi il gioco con l'ultima patch perché l'ultima patch che ha portato ha aggiunto diverse cose tra cui anche dei dettagli tipo il cielo, le nuvole, le stelle insomma è in sviluppo allora la lettera che riceviamo in inizio gioco è ci dicono sfortunatamente tuo padre tuo buon padre è morto abbiamo cercato il suo testamento e l'unica cosa che è stata scritta è che ti lascia la casa vai alla casa di papà ciao mamma allora abbiamo la possibilità di salvare questa è la nostra casa e rispetto a tanti altri giochi abbiamo anche la mappa che ci mostra dove siamo noi siamo qui e dobbiamo andare alla casa di nostro padre là c'è la casa della nonna e la nonna vi erano a questa assolutamente fuori di testa ma ve la farò vedere dopo c'è la possibilità di portarci dietro il cane beh non voglio chiuderlo fuori possiamo fumare 2 stay here no follow follow perché non riesco a uscire vieni 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 stay here stay qui possiamo andare in bagno normalmente adesso non ricordo il tasto però lo possiamo fare questa è la nostra casa l'ambientazione è graficamente molto basilare ma non malaccio e la cosa che vi dico è di non giudicare il gioco come lo vedete ora perché se andate a vedere su steam nelle immagini di gioco vedrete che potrete fare un sacco di cose sollevare le balle di fieno lavorare nei campi potrete vabbè guadagnare soldi nei modi più disparati tra cui tagliando anche la legna vendendo la legna ma al momento noi dobbiamo andare a casa di nostro padre e quindi prendiamo la bicicletta bicicletta abbastanza abbastanza basilare usando la mappa vediamo se stiamo andando giusti e direi di sì qui ci sono delle zucche la mappa è veramente grande e vi dicevo la quest della nonna è veramente fuori di testa ve la faccio vedere dopo ma non la farò perché è veramente devastante in pratica la nonna vi chiede di portarla al mercato perché deve vendere gli ortaggi che lei coltiva il problema è che non la portate in macchina o con altri mezzi veloci la portate con una sorta di trattore piccolino che sembra quello dei bambini con un carretto dietro la nonna è dietro e canta tutto il tempo in una lingua incomprensibile e il mezzo va a due all'ora ma due all'ora davvero quindi dovete allora sono entrato una volta nella strada principale che è quella che percorrere intorno quella gialla e mi hanno investito ed è partita una serie di compenetrazioni mi sono ribaltato la nonna continuava a cantare lo stesso allora ho scoperto che la dovete portare per i campi però ci vuole una vita ok questa è la casa di nostro padre era la casa di nostro padre abbiamo anche il campanellino che potete suonare con la F scendiamo e il gioco ci dice che la chiave per questa porta arriverà nel prossimo aggiornamento questa casa di nostro padre ma di nostro padre noi abbiamo la macchina e abbiamo anche questo carretto qua che possiamo trasportare ma al momento non ci serve non abbiamo altro abbiamo l'auto l'auto è interessante per quanto molto 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 basilare nel senso che saliamo sul veicolo la andiamo a accendere col tasto I fa fatica non si accende adesso si è accesa no devo tenere premuto finché si accende qualche problemino ok ok partita allora abbiamo il clacson il volume della radio dobbiamo allora togliere il freno a mano e poi si guida normalmente con buzz quindi non ci sono marce non c'è niente si guida così è molto basilare e se andiamo a casa della nonna la nonna è abbastanza inquietante che abita qui no non è questo scusate con la mappa vediamo abita lì in fondo alla strada quindi adesso ci stiamo andando è tutto appannato ecco lì la nonna almeno dovrebbe essere lì sto alzando anche il volume allora aspettate che spengo l'auto metto il freno a mano e scendo dall'auto col tasto F allora la nonna si infatti non la vedevo la nonna è questa tanto per farvi capire la nonna ci dà una missione ti prometto che non te ne pentirai seguimi io adesso non la porto là perché vi voglio far vedere la città e il disagio che è questo gioco vedete questa lei porta la questa roba e noi guidiamo così cioè per farvi capire cioè capite il disagio ma io adesso l'abbandono qui e vederci vado in città e vi faccio vedere il tour della città perché in pratica poi dovete avere la voglia infatti come ho già detto più volte non è un gioco per tutti dovete imparare a fare le varie cose dovete mettervi lì e cercare di capire come fare soldi quindi io la nonna la saluto la cosa bellissima è che rispetto a tanti altri giochi ci sono gli specchiati funzionanti guardate sono fatti veramente bene adesso io vorrei raggiungere ok raggiungiamo il girando a destra e poi a sinistra credo la strada principale allora non ci sono danni per ora all'auto e il gioco potrebbe essere abbastanza frainteso perché può sembrarvi una banalità ma se ripeto guardate su steam sulle immagini di gioco vedrete che ci sono tantissime cose da fare allora intanto prendiamo la strada e andiamo alla upa andiamo in città quindi non so si dovrebbe esserci tecnicamente lo stato del motore e la benzina poi c'è nel villaggio la l'officina dove potete potenziare l'auto quindi non è così banale ovviamente questo gioco sacrifica un po' quello che è il realismo della guida il realismo dell'auto del motore insomma non si maneggia sul motore si parla più di cooperazione e quest tra persone che abitano nello stesso villaggio quindi è un po' un po' un po' particolare graficamente io non ho mai guardato un gioco però è un pochino così insomma vi capirete però ecco anche solo il fatto degli specchietti retrovisori è utilissimo che vi fa capire chi avete dietro di lato insomma devo fare un po' di attenzione perché guidando con la tastiera non è che ci siano altre alternative non è che attacco il volante per questo gioco ma devo fare attenzione poi non succede niente se io mi vado a schiantare non succede niente ma è un gioco in divenire calcolando che lo sviluppatore lo sta seguendo tantissimo quindi potrebbe ecco diventare molto interessante gli interni sono spogli l'auto è vecchissima e adesso appena arriviamo in città vi faccio vedere i servizi offerti dalla città con anche una prima possibilità di ottenervi due soldi perché anche quello è importante perché vendono un sacco di roba adesso arriviamo là che vi può servire anche come tutorial diciamo sulle zone della città insomma per quello che ho provato io qua devo fare attenzione perché se mi ribalto non so come rimettere a posto la macchina quella è una ogni tanto il gioco scatta perché parte il caricamento della zona nuova intanto giravo uno in moto ma voi credete di aver visto il disagio con la nonna ma non avete ancora visto niente non avete ancora visto niente adesso in fondo a questa discesa dovremmo dovrebbe mancare poco e dovremmo arrivare in città in città aspettatevi il peggio del peggio del peggio adesso siamo arrivati alla prossima giriamo a destra la prossima nonché l'unica via che c'è su sta strada eccolo lì il cartello siamo finalmente arrivati in città nella big city c'è un po' di nebbia giriamo di qua e siamo arrivati parcheggeremo qui e vedremo un po' tutto quello che c'è da vedere allora io non ho capito il motivo ma lì c'è una moto che possiamo utilizzare anche se non è nostra siete pronti? non siete pronti ma ve lo faccio comunque l'orologio funziona potete comprare sigarette e una birra ma al tempo stesso potete anche prendere questa gente adesso non me lo fa prendere però praticamente potete raccogliere la gente da terra ok e portarla in quell'edificio là dietro guardate anche il condominio c'è un'immagine stampata sulla superficie di un poligono però che fa la sua figura e praticamente portandolo là all'ospedale questa gente è ubriaca ho provato a caricarlo in macchina ma ho subito delle bruttissime compenetrazioni il cielo l'hanno aggiunto nell'ultima patch ma è bello ma un po' eccessivo secondo me un po' post apocalittico e portandoli qua al detox vi danno mille in questo caso abbiamo guadagnato mille allora adesso prendiamo l'auto e vi faccio vedere ma prima vi faccio vedere anche il negozio che c'è davanti così vi faccio vedere un po' tutte le possibilità che ci sono qui qui nella big city là in fondo c'è un negozio di trattori di mezzi agricoli vedete che ce l'ha un trattore giallo si possono acquistare torniamo nel momento del disagio intanto si è fatta subito sera quindi abbiamo viaggiato fin qui è arrivata sera subito questa moto questa moto dicevo è utilizzabile quindi ci possiamo salire e non so perché se è nostro o meno questo tizio qui non ci dà niente qua davanti invece c'è un negozio negozio quanto ho capito dovrebbe essere sempre aperto non approcciate la casa abbandonata nella foresta intorno alle mezzanotte la polizia sta conducendo ricerche in questo posto può essere pericoloso ok no è chiuso è chiuso vabbè in sintesi qua vendono cose diciamo per la da mangiare insomma è un emporio insomma vendono roba è chiuso è chiuso qua abbiamo qualcosa che non si può prendere allora là in fondo c'è il meccanico faccio vedere di qua allora abbiamo il meccanico dove c'è il simbolino della chiave inglese il mercato invece è lì in quel parcheggio e c'è anche il passaggio del bus quindi praticamente la croce invece la croce lì è la cura insomma c'è anche il negozio adesso andiamo a vedere allora diciamo che a seguito di un baghettino ho dovuto ricominciare la partita ed è fondamentale in questo gioco salvare a casa però ne ho approfittato per tornare subito qui e farvi vedere l'ingresso del negozio dove potete acquistare varie cose open shop menu vedete potete comprare l'ascia spray e altre cose tra cui le minigonne per l'auto gli spoiler e altre cose il turbo quindi un minimo comunque di modifiche al motore ci sono e le potete usare dal meccanico quindi praticamente adesso io riprendo l'auto e vi faccio vedere anche il meccanico che l'ha in fondo intanto vabbè riavviando il gioco se è disabilitato lo si riattiva la visione degli specchietti dalle impostazioni poi si riattivano l'auto l'auto ha qualche evidente problemino e vi faccio vedere anche quello ovviamente potete anche venire in città usando il il bus da quello che ho visto ci sono le fermate del bus adesso vedete là c'è la fermata devo usare la mappa ah sto sbagliando sto sbagliando strada completamente e adesso sono andato il mercato è qua questo qui è il mercato la zona di di mercato dove fanno il mercato adesso è quello che si vede ma vabbè non si vede niente mentre beh se guardate la mappa il bosco è questo in mezzo anche di qua c'è bosco lì c'è il punto di invio del legno perché potete andare ad abbatterlo in mezzo dovrebbe esserci appunto una casa dove potete appunto andarci di notte contrariamente a quanto ci dice di fare quel manifesto e quindi cercare di scoprire che cosa succede mentre in alto a destra della mappa c'è la vecchia fattoria dove potremmo andare a lavorare il gioco ripeto ha qualche baghettino è evidente ma la voglia dello sviluppatore è tantissima di portare avanti questo titolo adesso aspettate che abbasso la musica perché sennò diventa veramente fastidioso e qui abbiamo il meccanico con le parti speciali da poter equipaggiare all'auto qua dobbiamo ancora capire esattamente come funzioni però insomma questo è il meccanico andiamo a vedere anche quella adesso si avvia ok usciamo e andiamo a vedere il gioco ha tanto da dare ma esprime poco all'inizio nel senso che sembra un gioco veramente banale ma in realtà di cosa fare ripeto per la terza volta ne troverete da fare andando su su steam e vedendo e vedendo tutte le cose che si possono fare questo è vabbè parimento discutibile e qua vedete che abbiamo un mezzo che possiamo andare ad acquistare adesso non so non c'è nessuno ok eccolo qui potete comprare tre mezzi 150.000 180.000 300.000 quindi abbiamo una serie di mezzi acquistabili mentre invece in città vedete l'ospedale l'abbiamo visto prima abbiamo la fermata del bus abbiamo qua davanti vabbè il il negozio di alimentari insomma quello che è abbiamo il barretto con il simbolo del drink abbiamo il parcheggio dove c'è il mercato poi qua nella foresta abbiamo la vecchia fattoria che vi dicevo l'invio di legname quindi se tagliamo il legno lo portiamo lì abbiamo il lago con un parcheggio abbiamo la casa la casa della nonna la casa di nostro padre e altre case tra l'altro in queste case nel villaggio ci sono continuo a sbagliare tasto poi vedete che il gioco ogni tanto si bugga ed esce sta roba qui praticamente nella casa sotto avete aspettate che vedete i tasti per il fumorella P L presentation U per fare PP e M la mappa il gioco si bugga in questo modo quindi questo è uno dei problemi che ho che ho rilevato poco male noi ricominciamo da capo quindi andiamo su quit e riavviamo questo è un peccato lo sto trovando abbastanza bloccante come cosa infatti ci tengo anche a sottolineare che dovete accettarli i bug se escono poi non so se è una cosa che ho sbagliato io insomma ma ripartendo vedete non ho salvato nulla tra l'altro se non leggete la lettera non vi spone neanche la macchina di vostro padre quindi dobbiamo fare attenzione comunque le premesse sono buone ma dal mio punto di vista sono inferiori a quanto io ho visto su giochi come Mombazoo My Summer Car e altri simili poi non nego che in futuro ci potrò fare dei tutorial potrei perderci la vita io su questi giochi su questo gioco non lo specifico ma al momento sono un po' perplesso appunto per questo per questo baghettino poi il gioco sembra ricco di contenuti ma è in divenire quindi viene portato avanti vengono aggiunte cose di cosa farce ne sono i livelli di profondità non mi sembra tale come un Mombazoo al momento però a parte il baghettino dello schermo grigio il gioco gira anche piuttosto bene nel senso che ha dei bei dettagli non è eccessivamente punitivo come un My Summer Car vedete qua adesso andando a vagare per le case c'è quella casa lì che vedete che indica uno su mille zero su mille quindi qua potremmo portare qualcosa adesso io scendo dalla bici vedete poi ha quelle cose tipo molliamo la bici se la molliamo in corsa i pedali continuano a girare però va bene questo ho bisogno di 10 metri cubi di legna tagliata in cambio ti darò la mia vecchia auto è stata in garage per 20 anni non vado da nessuna parte ok mi aiuterai no non ti aiuto con L c'è presentation ah ok ok presentation qua dentro ci sarà l'auto e probabilmente secondo me questa è l'auto quella che useremo da modificare e quindi non come quella che abbiamo adesso quindi beh il primo passo sarà senz'altro quello di andare e tagliare la legna ma attendo in questo breve video insomma vi ho fatto vedere le basi di questo gioco attendo ora un vostro parere qua c'è diritto un campo da calcio attendo le vostre impressioni però non vedo neanche parametri di parametri di di vita insomma quindi non lo so vedremo qua c'è una scala si sale sopra questa è la casa di nostro padre mi ha trovato un disco non possiamo prenderlo possiamo solo portarlo a casa bisogna fare attenzione qua lo possiamo mettere in auto ma non so come vedete che poi traballo insomma le compenetrazioni sono tipiche di questi di questi giochi ragazzi io attendo il vostro parere e nel caso in cui vi dovesse interessare potrei anche andare a tagliare la legna insomma e portargli questi mille pezzi di di legna che sono i 10 metri cubi di legname tagliato per ottenere l'auto che sarà quella che poi potremo andare a modificare non l'auto marcia che abbiamo lì che è un blocco unico insomma quindi il gioco si farà sicuramente interessante di questo sono sicuro andando avanti ma per ora ve lo presento come alternativa se avete già come me spolpato Mombazoo My Samarcar magari anche My Garage perché no un Junk Yard Simulator insomma quelli lì Junk Yard Track scusate che è un altro gioco ancora quindi resto in attesa di vostre indicazioni e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao 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 a tutti i nostri spettatori